Ciao ragazzi, benvenuti a questo circa live commentary Oggi ho da mostrarvi una vera chicca di questo gioco dopo la patch 1.11 Ma prima volevo rispondere a Geddy9042 Credo, spero di averlo pronunciato giusto Che nel commentary fatto con Max sotto mi aveva chiesto Mi aveva fatto varie domande tra cui mi aveva chiesto se Era possibile sbloccare Drake con la maglietta da baseball In Uncharted 3 E vedo da qua Mi sono guardato Cioè io gli ho detto che non si poteva sbloccare Perché non c'era, non l'ho trovato io nella lista Però dato che non sono sicuro Adesso scorro la lista insieme a voi Così vediamo Perché la riguardo Allora c'è Drake normale Va voi Drake un completo Drake del deserto Drake goloso Obeso Drake subacqueo E poi Drake invernale E basta Tizi inutili A cui non frega un cazzo a nessuno Completamente E qua Drake con la maglietta da baseball non c'è Boh Nel 2 sono sicuro al 100% che c'è Nel 3 mi pare di no Non lo vedo qua Non c'è Comunque ora andiamo a una cosa importante Fulcro di questo video Questo file cinema Che mi è stato mandato da Andy Stuck Che Questa cosa è capitata anche a me Però da me è successa Per pochi secondi E poi mi ha buttato fuori dalla partita Quindi non sono riuscito a registrarla Lui ha avuto la fortuna di Essere entrato Non in una partita già iniziata Quindi il file cinema c'era Ed è successo questo Adesso vi farò vedere Teniamo il caricamento Cioè io quando l'ho vista Ci sono rimasto veramente di merda Ci ho detto Cazzo Fanno schifo a programmare ultimamente A parte che avevano detto Che avrebbero detto prima La data di uscita del Della patch E che quindi tutti i file cinema Sarebbero stati cancellati e svuotati E invece l'hanno detta Quindi mi sono ritrovato Mi sono ritrovato con Tutto Con il coso Che si doveva svuotare Perché dovevo aggiornare Era obbligato Per fortuna è sorgito Entrare in LAN E registrare i file In te Cioè prima di aggiornare la patch Cioè prima di fare l'aggiornamento E così il video numero 29 Si è salvato Comunque Come vedete da questa merda Si vede benissimo Che la mappa È completamente al contrario Cioè È al contrario Completamente Io non capisco Cioè Io non lo so sto gioco Come cazzo l'hanno programmato Poi Oltretutto Ho notato Riguardandolo Che Andre faceva fatica A riconoscere I nemici Dagli alleati Perché? Perché non compaiono I nomi in testa? Cioè Guardate È una Elena Lui è Drake Quindi è degli eroi Dovrebbe esserci Il nome in testa Blu o verde che sia Non c'è Perché non c'è? Perché Se voi guardate bene Si vedono dei nomi Muoversi a caso Completamente per lo schermo Senza alcuna ragione Si vede Che il gioco Si è talmente Buggato Che a parte che non ho capito Se Questa cosa al contrario Cioè Così speculare Storto Lo vede Soltanto Andy Oppure Se Tutti quanti Di quella partita Lo vedono così storto Questa cosa Non si è capita Comunque Tutti i nomi Beh O blu Rossi non lo so Però i blu Sono Guardate La giusta Ne vede uno Ma non c'è niente Secondo me Prende i nomi Di dove dovrebbero essere Nella mappa Giusti I personaggi E te li fa vedere giusti Rispetto alla mappa dritta Mentre le persone Sono Giuste Rispetto alla mappa Storta Quindi non si capisce Niente È un casino Ora vado un po' avanti Perché qua Non ha fatto nessuna kill Devi avanti Però Boh Difatti c'è gente Che abbandona Adesso provo A fare una cosa Ancora non ci ho mai provato Provo Perché è stato così Tanto tempo a fare Ok Provo Anche la mira È Alla sinistra Non è dritta Difatti non si riesce Cioè Voi Provate a pensare Che il gioco È incentrato Tutto in cui Nel modo che La telecamera È sulla destra La mira è sulla destra Generalmente Ora è tutto Sulla sinistra I nomi sono sbagliati Non si vede niente Non si riesce a giocare Comunque Provo a mettere La telecamera orbitante E vabbò Non si vede Che è storto Chiaramente È completamente Al contrario E va bene Provo a mettere Libera A vedere la mappa Cioè È al contrario Completamente Cioè Vedete Ci sono i nomi rossi No dove sono Dove sono Cioè No Se io provo A spostare La telecamera Loro vanno via Sulla destra Cioè Boh C'è gente Dentro i muri Guardate Si vede il nome passare Ma non c'è nessuno Sono completamente Sballati Cioè Non mi trovo neanche Rispetto alla mappa normale Sembra Completamente Sbagliata Boh Che poi Come fa il gioco Cioè Come fai A Programmarlo Al contrario In questo modo In più mi sta Morendo la scheda Non so perché Aspettate Ok Dovrebbe esserci No va scatti Ah pure la scheda È andata puttana Ma tutto a scatti Via Vabbè Dato che sta morendo Chiudo qua Tanto sta roba Fa schifo Questo gioco è una merda È la scheda mia pure Più c'è gente che lagga Da fare paura Ma scatta il gioco Quindi non si vede neanche Chiudo e ci sentiamo Alla prossima Ciao ciao